Ciao ragazzi e benvenuti al parchetto del tagliagole, oggi ragazzi fine del test per il Fox Rimor versione customizzata scintilla outdoor team, ragazzi versione con in dotazione il bellissimo fodero in kydex realizzato da Gianluca Obe Farini ragazzi, fodero incredibile, coltello incredibile andiamo a vederli insieme Grazie a tutti 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 Grazie a tutti. 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 perché parlo. a tutti. 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 che. a tutti. a tutti. a tutti. in. a tutti. 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 un coltello. a tutti.